Ciao a tutti, sono Dario, sezione CAI Grandi Carnivori e all'appello che ha fatto l'associazione Life Wars Alp per avere un commento sul nostro perché e la motivazione di fare questo volontariato voglio dare il mio contribuito dicendo che per me il lupo è un animale fondamentale per quanto riguarda l'ecosistema, per quanto riguarda l'equilibrio della montagna io sono un appassionato di montagna, sono un appassionato di animali e adoro il lupo per la sua tipologia di vita, per la sua, come posso dire, la struttura familiare eccetera io il lupo non l'ho mai visto, l'ho solo sempre sognato ma auguro a tutti veramente di voler bene il lupo perché è un animale fondamentale per la nostra vita e per il nostro futuro Ciao a tutti e vogliate bene ai lupi Ciao